Un grande piedone per la sfilata al catisacca di Pescara, Claudia Cris ha presentato una nuova collezione del suo negozio Vanity Fashion, in particolare abiti Danny Rose, tutti entusiasti per questi capi, vogliamo presentarli? Sì, come no, Danny Rose è una ditta che noi abbiamo da due anni, da quando abbiamo aperto la nostra attività, è una ditta comunque adatta alle giovani clienti, anche alle meno giovani, è comunque bella, comunque casual, la puoi mettere sia di giorno che di sera. Questa sera noi abbiamo presentato il flash natalizio, proprio per dare appunto anche il modo a tutti quanti i clienti di venire al negozio e di anche trovare l'abito per le feste, quindi anche per Capodanno, anche per la serata di Natale. Tu sei una modella, indossatrice, una miss, hai certe ragazze fresche, spumeggianti, ricordiamo che Alessia Ventura è la testimonial proprio di Danny Rose, ma sono anche tante altre le marche che tu proponi nel tuo store presso il centro commerciale del Delfino a Pescara. Sì, noi oltre Danny Rose abbiamo anche Coralline, Graffio, Niro, sono tutti quanti i marchi che noi stasera nelle tre uscite comunque abbiamo fatto sfilare, infatti abbiamo fatto una prima uscita che è un'uscita casual, la seconda uscita che abbiamo fatta un po' più sexy perché abbiamo anche le calze di bombane e trasparenza all'interno del nostro negozio e la terza uscita abbiamo fatto uscire appunto Danny Rose perché è appunto il marchio più prestigioso che abbiamo all'interno del nostro negozio. Grazie a tutti Dicevamo due anni di successi abbiamo visto boa di piume rossi abbiamo visto delle linee molto particolari come è stata la tendenza dell'inverno? La tendenza dell'inverno è comunque una tendenza a portare maximale, comunque leggings, comunque abbigliamento sempre casual, comunque sempre carino per tutti i giorni, adatto un po' a tutti quanti i tipi di età e quindi vi aspettiamo comunque al negozio anche perché da domani grazie a questa sfilata abbiamo per tutti i clienti comunque lo sconto del 20% E quindi vi aspettiamo numerosi all'interno del centro commerciale Globo in via Nazionale Adriatica 201 Ancora due parole sui colori e poi soprattutto sui prezzi eccezionali che fate in tempi di crisi? Sì, assolutamente sì perché in tempi come questi noi ci siamo adattati quindi abbiamo prezzi che partono alle 19.90 e poi così possiamo anche adattarci a tutti i tipi di clientela Last Christmas I gave you my heart, the very next day you gave it away This year to save me from tears, I'll give it to someone special Last Christmas I gave you my heart, the very next day you gave it away This year to save me from tears, I'll give it to someone special Once bitten and twice shy I keep my distance but you still catch my eye Tell me baby, do you recognize me? Well, it's been a year, it doesn't surprise me Happy Christmas I wrapped it up and sent it, with a note saying I love you I meant it Now I know what a fool I've been, but if you kiss me now I know you'd fool me again Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away This year to save me from tears, I'll give it to someone special Last Christmas I gave you my heart, the very next day you gave it away This year to save me from tears, I'll give it to someone special A crowded room, friends with tired eyes I'm hiding from tears, I'm hiding from you and your soul alive Next day you gave it away This year to save me from tears, I'll give it to someone special Tu sei una modella, indossatrice, una miss, hai certe ragazze fresche, spumeggianti Ricordiamo che Alessia Ventura è la testimonial proprio di Danny Rose Ma sono anche tante altre le marche che tu proponi nel tuo store Presso il centro commerciale Il Delfino a Pescara Sì, noi oltre Danny Rose abbiamo anche Coralline, Graffio, Niro Sono tutti quanti i marchi che noi stasera nelle tre uscite comunque abbiamo fatto sfilare Infatti abbiamo fatto una prima uscita con un'uscita casual La seconda uscita che abbiamo fatto un po' più sexy perché abbiamo anche le calze Di bombane e trasparenza all'interno del nostro negozio E la terza uscita abbiamo fatto uscire appunto Danny Rose Perché è appunto il marchio più prestigioso che abbiamo all'interno del nostro negozio Dicevamo due anni di successi, abbiamo visto boa di piume rossi Abbiamo visto delle linee molto particolari Com'è stata la tendenza dell'inverno? La tendenza dell'inverno è comunque una tendenza a portare maximale Comunque leggings, comunque abbigliamento sempre casual Comunque sempre carino per tutti i giorni, adatto un po' a tutti quanti i tipi di età E quindi vi aspettiamo comunque al negozio Anche perché da domani, grazie a questa sfilata, abbiamo per tutti i clienti Comunque lo sconto del 20% E quindi vi aspettiamo numerosi all'interno del centro commerciale Globo In via Nazionale Adriatica 201 Ancora due parole sui colori e poi soprattutto sui prezzi eccezionali che fate in tempi di crisi Sì, assolutamente sì perché in tempi come questi noi ci siamo adattati Quindi abbiamo prezzi che partono alle 19.90 e poi Così possiamo anche adattarci a tutti i tipi di clientela E da domani appunto partire anche il 20% su tutta la collezione recipe da domani, grazie a tutti Sous-titrage ST' 501